In questo video vi facciamo vedere come ripulire la zona di lavoro e gli attrezzi dopo aver lavorato con artresin. Per pulire e riutilizzare gli strumenti usati per mescolare, ripuliteli subito dopo l'uso con un asciugamano di carta. Bagnateli con alcol per massaggi o denaturato e ripuliteli nuovamente per una pulizia a fondo. Se necessario pulite la pelle con acqua e sapone. Se avete applicato del nastro alla base della vostra opera, rimuovete con cura il nastro non più tardi di 24 ore dopo il versamento. Et voilà! Ammirate la vostra splendida creatura!